Benvenuti a Permacultura Italia, la televisione della permacultura. Io sono Pietro e sono il fondatore e il coordinatore dell'Istituto Italiano di Permacultura che si trova a Scagnello, in Piemonte, in provincia di Cuneo. Il nostro sito internet, se volete fare più informazioni, è permacultoritalia.com Siete tutti benvenuti a condividere le nostre idee, le nostre ricerche. Comunque sia, questo è il primo podcast che si intitola Che cos'è la permacultura? Volevo introdurvi un secondo perché questi podcast, perché abbiamo ricevuto parecchie mail da inizio settembre che non avevamo corsi di permacultura come per esempio l'introduzione alla permacultura o il costo certificato di 72 ore durante tutto l'autunno e tutto l'inverno, quindi da settembre fino ad aprile prossimo. Questo perché chiaramente ci stiamo organizzando e l'Istituto Italiano di Permacultura è stato appena fondato un anno fa e quindi abbiamo fatto il primo progetto pilota che era appunto il corso di introduzione alla permacultura che abbiamo tenuto a fine luglio, fine luglio del 2011 chiaramente di quest'anno. Quindi, avendo ricevuto parecchie sollecitazioni dal pubblico, abbiamo pensato, anche se non siamo in grado di provvedere ad alcuni corsi prima di aprile, ci stiamo chiaramente organizzando stiamo anche invitando insegnanti dall'Inghilterra, dall'America e dal Sud Africa per condividere le loro esperienze della permacultura e come applicano, come molta gente applica la permacultura nel mondo. A maggio avremo Arania, che viene dall'Inghilterra e che condurrà insieme a me il primo corso di permacultura di 72 ore certificato e riconosciuto internazionalmente dall'Istituto di ricerca australiano in permacultura e dall'Associazione Britannica di Permacultura. Dovremmo, stiamo organizzando anche, dovremmo avere anche alcuni ospiti come per esempio Ezio Gori, che anche se il nome è italiano, però lui è nato e lavora in Sud Africa, quindi ha molta esperienza sui climi subtropicali e però ha anche molta esperienza su progetti comunitari che verrà a condividere con noi a maggio. Poi ho invitato anche Leslie Birn dell'Istituto australiano di ricerca in permacultura, che dovrebbe venire, adesso stiamo finalizzando le ultime cose, non ha confermato ancora. è anche Brin Thomas del Brighton Permaculture Trust, quindi viene da Brighton ed è uno dei primi permacultori inglesi, Brin fa permacultura dal 1989, quindi ha molta esperienza, ecco tutto qua. Bene, dopo questa piccola parentesi, piccola introduzione, io vorrei iniziare e passare all'argomento di oggi. Che cos'è la permacultura? Permacultura, questa parola un po' strana che si chiede che cosa sia, molti non sanno dare risposte, eccetera. Permacultura è una parola che è formata, composta da due altre parole, una è perma, che viene da permanente, in inglese permanent, appunto permanente, e l'altra parte è cultura, che viene da agricoltura o in inglese agriculture. Pensiamo sempre in inglese perché chiaramente la permacultura è nata in Australia e quindi è di radice anglosassone, le sue radici sono nel mondo anglosassone. Quindi la maggior parte delle pubblicazioni, dei corsi storici, sono stati fatti, sono tutti in inglese. Quindi vi consiglio di studiare bene l'inglese se volete fare permacultura al momento. Chiaramente nel futuro ci saranno anche, spero, molte traduzioni dall'inglese all'italiano, come già sta accadendo, appunto Terra Nuova ha pubblicato l'introduzione alla permacultura, c'è anche permacultura 1 e permacultura 2 tradotti in italiano e poi ultimamente, mi sembra l'altro anno, due anni fa, è stato pubblicato l'ultimo libro di David Holmgren, Permaculture Pathways Beyond Sustainability. Ecco, lo dico in inglese perché non lo so il dito italiano, onestamente, però esiste in italiano e lo potete trovare ordinario in tutte le librerie. Quindi torniamo alla parola, permacultura, quindi permacultura vuol dire, viene da perma che è permanente e cultura che è agricoltura originariamente, quindi vuol dire un'agricoltura permanente o in inglese permanent agriculture. Questo però da un bel po' di tempo, da molto tempo che è un po' cambiato perché originariamente era stata coniata questa parola che appunto voleva dire agricoltura permanente. Oggi la vediamo un po' in un modo un po' più ampio, la parola è intesa in modo un po' più ampio ed è intesa infatti come cultura permanente dove l'agricoltura fa parte della cultura, l'agricoltura appunto da tantissimo tempo fa parte della cultura di varie civilizzazioni umane che appunto usavano questa tecnica chiamata agricoltura, che contrastava poi con molti altri popoli che invece erano soltanto raccoglitori e cacciatori, quindi raccoglievano cibo selvatico nelle foreste, nei posti insomma non coltivati e cacciava selvaggina, carne selvatica. Comunque sì ecco, volevo specificare proprio questo che permacultura oggi la intendiamo in un modo molto più ampio che appunto quello della cultura permanente, cioè di stabilire, cercare di stabilire, cercare di andare a creare una cultura della permanenza e non una cultura del mordi e fuggi, mangia tutto e fuggi, mangia tutto e poi non c'è più niente, lasciamo qualcosa invece anche per i nostri posti, per i nostri figli. Questo credo sia un messaggio abbastanza importante. Oggi moltissime persone dicono, ho capito, ma adesso se fallisce questo sistema perché il petrolio non c'è più, perché l'energia scarseggerà nel futuro, eccetera, cosa facciamo, cosa andiamo incontro? Una delle risposte è facciamo permacultura. Andiamo avanti, adesso parliamo un attimino, facciamo una piccola storia della permacultura. Permacultura diciamo che appunto nasce in Australia negli anni 70 e nasce diciamo da Bill Mollison che era un professore universitario all'epoca, dopo aver fatto tanti mestieri e tante esperienze, arrivò a diventare appunto un professore universitario che faceva degli studi sui sistemi forestali e iniziò subito dopo la crisi degli anni 70 del petrolio, non so se qualcuno si ricorda della famosa austerity, io lo ricordo perché andavo con mio padre in bicicletta ed era molto bello, non c'erano macchine, si poteva andare dove uno voleva, in mezzo alla strada, eccetera, invece prima con le biciclette era pericoloso, non si poteva andare molto spesso perché dovevi andare sul marciapiede, per strada c'erano le macchine, eccetera. Durante l'austerity mi ricordo invece che andavo in mezzo alla strada, bellissimo, con mio padre, liberi insomma di passeggiare in bicicletta ed era pieno di gente tutti in bicicletta, bellissimo, anche se chiaramente era una cosa un po' tragica perché per il sistema economico c'era una mancanza di petrolio, quindi chiaramente era una cosa grave, però per me bambino me la ricordo come una cosa molto carina. Ecco, quindi negli anni 70, appunto dopo il problema, i primi problemi del petrolio, che scarseggiava, eccetera, ci sono stati dei problemi, Mollison intuisce che nel futuro ci saranno grossi problemi per ottenere proprio il cibo, quindi uno dei nostri bisogni fondamentali, quello di nutrirci, potrà avvenire a mancare. Con questa idea lui inizia poi a sviluppare il discorso di un'agricoltura permanente che poi successivamente si espande e diventa una cultura permanente. Insieme a lui c'era, ha contribuito moltissimo, David Holmgren, lo ripeto bene, David Holmgren e insieme, David era uno studente di Bill Mollison e stava facendo una tesi sul paesaggismo, in inglese landscape design e insieme scrissero il primo libro, che è anche il manifesto della permacultura, che si chiama Permacultura 1 o Permaculture 1, questo ed era il 1979. Successivamente poi Mollison pubblica nel 1982 un altro libro che si chiama appunto Permacultura 2 o Permaculture 2, che praticamente andava a espandere più che altro i concetti esposti in Permacultura 1, quindi dando anche soluzioni molto pratiche a problemi climatici di vario tipo per la produzione di cibo, produzione agricola. Adesso volevo raccontarvi come io ho conosciuto la permacultura per la prima volta. Era il 1998, ero a Londra, io ho vissuto in Inghilterra per 14 anni, dove appunto ho imparato la permacultura, ho praticato, ho seguito dei progetti, eccetera, e stavo a casa del mio amico che si chiama Sergio, anche lui ha vissuto in Inghilterra per tantissimi anni, e lui stava facendo un corso di giardinaggio presso i Kew Gardens di Londra, e un giorno torno a casa, andavo a trovare, come stai, come al solito, e mi disse, guarda lo sai oggi che ho trovato, mi hanno dato questa rivista, credo che era il Permaculture Magazine, la rivista della permacultura pubblicata in Inghilterra, e mi disse, guarda, mi hanno spiegato questa cosa, questa permacultura, questa, diciamo, diceva appunto permacultura, la chiamava in italiano, e mi disse, permacultura, guarda, la permacultura sarà il futuro, e io gli chiedi, il futuro di che cosa? E lui mi disse, il futuro del genere umano. Beh, insomma, dopo questa grossa affermazione, io, se si va, forse sarà il caso di leggere qualcosa a riguardo, mi feci prestare la rivista, dopodiché comprai Permacultura 1, e la lessi. Sinceramente, dopo che ho letto Permacultura 1 la prima volta, non è che ci ho, cioè, non avevo capito bene di cosa si trattava, anche perché all'epoca non ero molto pratico di paesaggismo, o, insomma, di agricoltura in modo più ampia, così, avevo delle esperienze in giardinaggio, piccoli giardini, cose, insomma, di città, quindi un'esperienza abbastanza urbana, diciamo, poi, insomma, io vengo da Roma, è nato a Roma, quindi, chiaramente, sempre ho avuto dei giardini a casa di mia zia, di mio nonno, quindi sono sempre coinvolto un po'. Il mio balcone a Roma era molto grande, anche quando ero bambino, quindi avevo sempre, coltivavo sempre qualcosa, insomma, nei vasi, sul balcone, eccetera. Però, ecco, per esempio, ero molto più orientato verso gli ornamentali, ecco, produzione di ornamentali, fiori, per abbellire, eccetera. Mentre poi ho capito questa cosa fondamentale della prima vittura, che invece, appunto, cerchiamo, la prima vittura cerca di spostarsi, anche nei giardini, insomma, urbani o semiurbani, eccetera, di spostarsi verso la produzione, comunque, di cose utili all'uomo, più utili, e che hanno bisogno di meno energia, quindi molto l'uso dei perenni, quindi alberi, arbusti, cespugli, eccetera, quindi alberi da frutta, eccetera, e usare, ecco, allo spazio il più possibile per produrre il più cibo possibile, perché, appunto, andremo verso questo problema, che avremo sempre meno superficie coltivabile e quindi dovremmo iniziare ad adattarci a coltivare in qualsiasi posto possibile ed immaginabile. Dopodiché, lasciai, dopo aver letto Prima Cultura 1, lasciai perdere per un po' di anni, poi non so perché mi capitò di leggere Prima Cultura 2, che invece trovai molto, molto più, all'epoca molto, molto più interessante, molto più capibile, insomma, per i miei mezzi, in cui avevo all'epoca, e quindi era un libro che dava già più soluzioni a diversi problemi climatici, quindi dava delle soluzioni più pratiche, ecco, Prima Cultura 1 lo vedo un po' più come il manifesto, della Prima Cultura. Comunque sia, che cos'è la Prima Cultura? Ecco, passiamo all'argomento di oggi. Che cos'è la Prima Cultura? Io qui ho alcune definizioni che ho preso da vari autori di vari libri di Prima Cultura, appunto soprattutto gli inglesi e australiani, e volevo leggere, iniziamo dalla Prima. Prima. La Prima Cultura è il paesaggio disegnato consciamente che imita i modelli e le relazioni trovate in natura, producendo un'abbondanza di cibo, fibre ed energia per i bisogni locali. Questo è David Holmgren da Permacultura, principi e percorsi oltre la sostenibilità. Ecco, questo è il titolo che io prima ho detto in inglese, che è stato pubblicato anche in italiano. Poi, la seconda definizione è, la Prima Cultura cerca di massimizzare la produttività, mentre minimizza l'importazione di bisogni come lavoro, denaro, tempo, energia. Questo è dai corsi che fa Graham Bell. Graham è un altro autore e insegnante di Prima Cultura inglese, un altro tra i primi in Inghilterra. Questa è un'altra, abbastanza interessante. La Prima Cultura può essere descritta come pensare attentamente, seguito da azione minima, invece che azione frettolosa, seguita da pentimenti a lungo termine, da Patrick Whitefield, The Heart Care Manual. Ecco, vi ho la quarta, la quarta definizione abbiamo La Permacultura è basata sull'osservazione dei sistemi naturali, la saggezza contenuta nell'agricoltura tradizionale del passato e sulla conoscenza scientifica moderna. Basata su modelli ecologici, la Permacultura crea un'ecologia coltivata, la quale è disegnata per produrre cibo per gli uomini e gli animali del tipo che si trova in natura, dai corsi di Arania. Un'altra definizione. La Permacultura è prendersi la responsabilità, è una direzione, non una destinazione. Il sistema si muove in quella direzione? Se la risposta è sì, allora stiamo facendo Permacultura. Questo è sempre dai corsi di Graham Bell. Adesso abbiamo un'ultima. La Permacultura semplicemente chiede alle persone di mettere nella vita quello che loro chiedono dalla vita stessa. Questo è chiedere troppo per salvare il mondo? Usa i suoi principi nella vita di tutti i giorni. Insegna ai tuoi figli, informa i tuoi governi locali, nazionali ed internazionali della saggezza che contiene. Questo è David Bellamy introduzione al libro The Permaculture Way. Ecco, noi durante i nostri corsi, soprattutto il corso Introduzione alla Permacultura, facciamo leggere appunto varie frasi come ho fatto io adesso e poi chiediamo a ognuno di dire o di fare pensare alla propria definizione di Permacultura. Ecco, io per cari vi dico la mia definizione di Permacultura. Per me vedo che queste frasi molto lunghe che dicono tante cose, spiegano tante cose, molto oltre sono anche un po' difficili da capire. Io semplicemente spero di non essere riduttivo. Credo che per me la Permacultura io la vedo come la coltivazione della vita e con vita intendo tutto ciò che è vivo. ecco, io credo che con questo possiamo passare a vorrei disegnare una mind map alla lavagna per far vedere per elencare un pochino gli aspetti della Permacultura ecco come la permacultura è composta e questo adesso lo vedremo alla alla lavagna che appunto adesso mi sposterò e andrò alla lavagna per disegnare questa mind map intanto vi ringrazio e un minuto che vado alla lavagna e sarò ancora con voi.